Siamo qui con il maestro Renato Carusone. Primo in classifica in Italia. Uruguay, Brasile, Cuba è ora primo in classifica anche negli Stati Uniti. La tua musica è rivoluzionaria, il tuo batterista suona i bicchieri. Poi siete ironici, provocatori. Insomma, siete il futuro. Gigi, io pensavo alla musica che facciamo, alla musica che si farà, se non è nuova, ma che fai a fare? Grazie.